Anche quest'anno MAN Track & Bus è presente alla Track Race, una manifestazione tra l'altro ben organizzata e quest'anno direi anche piena di gente. Tutto è andato finora nel migliore dei modi e abbiamo portato in prova due veicoli, questo alle mie spalle che è il nostro concentrato di tecnologia, quindi pieno di tutti i sistemi di sicurezza, dalle telecamere a tutto il resto e l'altro fratello, praticamente gemello, che è invece in versione con gli specchi tradizionali in modo che la gente possa comparare le due versioni. La gente che li ha provati è stata entusiasta, hanno avuto parole di elogio, soprattutto del nostro sistema Outview e di conseguenza non possiamo che ritenerci soddisfatti, sia di essere qua che di quello che sta succedendo. Ho guidato un MAN 470, ottimo camion, mi piace molto lo spunto dal basso che ha, la coppia è spettacolare, ma mi ha impressionato veramente tanto la visibilità attraverso i specchietti, cioè i specchi virtuali. Sono venuto a provare il MAN, si può dire gran macchina, comoda, non sembra alla portata di tutti, sembra di guidare una macchina, anche per me che uso mezzi industriali da cava, devo dire che è una gran bella macchina.